Partirà lunedì 7 gennaio il piano di razionamento per il conferimento della frazione indifferenziata presso l'ex stir di Battipaglia. I comuni del Salernitano, a far data da lunedì, potranno conferire solo il 50% di indifferenziato destinato al termovalorizzatore di Acerra, che per i prossimi 40 giorni vedrà la manutenzione programmata di una delle tre linee. Una manutenzione che a catena si diverbera sull'impianto battipagliese, che sarà costretto a lavorare al di sotto delle sue potenzialità.